è un cittadino tu non voterai per il Presidente della Repubblica? è il rischio di non voterà no, il rischio in che senso? cioè ti ci vuole il Super Green Pass se mettono il Super Green Pass ti vai a vaccinare o sei già vaccinato? no, non sono vaccinato quindi non voti il Presidente della Repubblica è il rischio di non votare guardate che bellezza questa democrazia è una lezione dei diritti ne parliamo un'altra volta neanche Mussolini ha rivotato ne parliamo un'altra volta perché io devo chiedere un'ultima cosa